bentornati amici qua nel salotto delle pipe in compagnia di me style allora oggi parliamo di un argomento controverso che spesso mi è capitato di discutere nei gruppi di questa cosa qua allora anche nell'ultimo gruppo e degli ignoranti a pipa ne abbiamo parlato non mi ricordo con chi forse con gianluca però comunque l'argomento è stato affrontato allora l'argomento di oggi è riduttore sì o riduttore no quindi cosa stiamo parlando di pipe che in realtà monterebbero il filtro o da 6 o da 9 e diciamo che la cosa più banale sarebbe mettere un riduttore che riporti il foro da 3 per fumarla come tutte le altre pipe con foro da 3 ora io è una pratica che non faccio in realtà l'unica marca con le quali mi è arrivata il riduttore ma dico per mia esperienza e poi magari ne esistono altre o altri ce li mettono è la Savinelli la Savinelli nella mia Dolomiti aveva messo il riduttore da 6 perché questo qua ha il foro da 6 ma come vedete io il riduttore non lo uso non l'ho mai montato neanche la prima volta anzi perché ero proprio curioso di fumarla senza riduttore ma ho tante pipe che in realtà portano il foro da 9 come questa qua che è una bellissima Volcan di Paronelli questa porta il filtro a 9 in realtà quasi tutte a parte la stilosa anche quasi tutte le le mie Mastro portano filtro a 9 ma non ve l'ho fatta vedere perché sennò dice che faccio le che pensate che faccio le caculo di Alberto e quindi vi ho fatto vedere due pipe che non c'entrano niente allora e per me la miglior fumata e fumarle senza riduttore altri dicono che senza riduttore fa condensa che senza riduttore il tiraggio è troppo aperto che quindi si scalda troppo la pipa eccetera eccetera allora io ho trovato molto piacevole fumare senza riduttore il fumo a me sembra vagamente quasi in maniera impercettibile però un pochino si percepisce che il fumo arrivi più fresco questo perché perché comunque la dilatazione del foro ti fa un po' ti fa un po' effetto da reverse calabash ora che dire ovviamente è una cosa sottile non è una vera e proprio reverse calabash ovviamente però che dire fa condensa sicuramente può far condensa però ribadisco io ho sempre detto a me non la fa è tutto impossibile e mi hanno detto no ma te la fine fumata vedrai ti smontala mettici dentro lo scottex e vedrai che rimane sporco che rimane che rimane umido e gente l'ho fatto lo scottex non rimane quasi per nulla umido lo sporco non è niente di più niente di meno di quello che tiri via con lo scovolino in una pipa normale quando pulisci quindi obiettivamente io non ci ho visto contraindicazioni però a me piace pormi domande da neofita che è fancazzista che non capisce un cazzo io cosa faccio quando ho la possibilità di fumare non in compagnia che magari non ci troviamo in video fumato che non fumo fisicamente con altre persone che fumo da sola mentre sto fumando da sola spesso mi pongo delle domande sulla fumata e spesso cerco di studiare la mia fumata se la sto conducendo bene se la sto conducendo male questo proprio perché delle volte mi piace anche cercare la tecnica non solo il piacere ovviamente non sempre la maggior parte dei fumate è puro piacere però nel chiedermi questo io mi sono reso conto che probabilmente probabilmente l'idea che mi sono fatto io da quello che non ne sa è che se voi siete dei fumatori plurimi cioè fumate sigarette sigari e pipa probabilmente il vostro tiraggio sarà più consono a una pipa con foro da tre perché sarete abituati a un tiraggio più frequente più insistente probabilmente dato dall'abitudine con la sigaretta e quindi vi troverete sicuramente meglio a usare il riduttore perché senza riduttore ovviamente tirereste come del ciminiere scaldereste e fareste condensa ma questo non per colpa della pipa che non ha il riduttore ma semplicemente perché il vostro stile di fumata che non mi permetterei mai di definire né giusto né sbagliato però probabilmente non si adegua bene al fumarlo senza filtro quindi la soluzione c'è certo se uno fuma con attenzione pensandoci riesce ad evitare tutto ciò è chiaro anche io la prima volta che dopo aver fumato diverse biliarde con il classico foro da tre mi sono presentato a una semicurva senza senza il filtro è chiaro che la prima volta anche a me ha scaldato anche a me ha fatto condensa però nel mentre mi sono posto la domanda del perché ho cercato di capire e dopo ho adeguato la mia fumata ho fumato in modo molto più rilassato ho fumato tirando ovviamente molto meno proprio un filo e ho trovato una fumata molto molto piacevole l'alternativa a se non riuscite proprio a regolare in maniera più pacifica e tranquilla la vostra fumata sarebbe quella di caricare un po' meno lasco il tabacco di pressarlo un po' di più perché chiaramente opporrebbe un po' più resistenza al vostro tiraggio però ad alcuni alcuni mi hanno detto che non vogliono fare così perché gli piace caricare più l'asco e perché sono abituati a fumare così quindi diciamo che non tutti sono propensi a cambiare la loro fumata per fumare senza filtro e quindi hanno completamente il diritto di usare il riduttore e perché perché la fumata deve essere piacevole unicamente per voi e non c'è nessuno che vi può dire come voi dovete fumare la pipa né io né nessun altro fumate sempre come vi pare a voi perché deve essere il vostro piacere poi se c'è un neofite in ascolto che si sta ponendo la domanda o se la poneva deve usare il riduttore non lo deve usare è meglio usarlo non è meglio usarlo il mio consiglio è comunque provate provate senza soprattutto da neofiti senza avere diciamo anni e anni di esperienza che conducono la vostra fumata in un senso ben preciso magari voi avete quell'elasticità mentale e data dall'inesperienza che vi permetterà di apprezzare di più la fumata senza filtro ora ovviamente io mi sono confrontato con diverse persone tanti veramente tanti pensano che ci voglia riduttore però vi posso garantire che forse non altrettanti però parecchie persone mi hanno dato anche ragione sulle mie considerazioni facendomi sentire un po' meno neofita un po' meno pirla perché delle volte io io devo dire che mi pongo la questione ma sono io che sono un pirla o magari qualche volta nella mia ignoranza posso avere ragione e quindi devo dire che alcuni invece mi hanno dato ragione quindi la verità dove sta la verità non sta da nessuna parte l'unica verità è fumate come vi piace se a voi vi piace col riduttore fumate col riduttore se voi riuscite a trovare il piacere di fumarla senza a mio avviso probabilmente ve la riuscirete a godere anche di più ma è sempre una mia opinione vi saluto alla prossima qui su man style il salotto delle pipe un saluto dal nostro rametto che rimarrà sempre la nostra mascotte ricordatevi che le vostre pipe fondamentalmente vengono da lui ciao alla prossima